Valorizzare e riscoprire le bellezze che la città di Bassano ha la fortuna di possedere, quelle bellezze fin trappe volte sconosciute agli stessi bassanesi. E' questo un obiettivo dichiarato da sempre dall'assessore alla cultura Giovanna Ciccotti che a tal proposito ha annunciato oggi l'intenzione di schiudere uno scrigno prezioso come quello del camminamento del castello degli Ezzelini. Io riallaccerò i contatti con Italia Nostra per poter riaprire la visita delle mura, la visita del teatro dell'Ortazzo, della Torre di Guardia e vorrei riaprire anche Santa Maria in Colle, fare in modo che non solo i turisti possano accedervi ma anche le persone comuni che vogliono entrare e magari trovare un momento di accoglimento e di preghiera. Non solo le mura dunque ma anche la storica Pieve Cittadina potrebbe essere presto riaperta andando così incontro anche alle richieste dell'abate della città Monsignor Renato Tomasi che da tempo cerca volontari per rendere fruibili i luoghi di culto. Ma quando potrebbe andare in porto la proposta dell'assessore Ciccotti? Io penso che la prossima primavera sicuramente per quanto riguarda le mura del castello, per quanto riguarda la Pieve forse potremmo farlo anche prima. Grazie. 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 Grazie a tutti